Benvenuti, io sono Grizzly. Sin dai primi anni 2000, sulle piattaforme Internet per contenuti multimediali sono sbocciati decine di video, guide, tutorial e informazioni per il do-it-yourself. Perché di siti web che mostravano questa tipologia di contenuti ce n'erano a bizzeffe, ma mostrare a video ha sempre creato un interesse e maggiore dello spiegare a parole, magari con qualche sparuta fotografia. Tuttavia, alcuni tutorial ed esperimenti possono risultare totalmente inutili, quando non estremamente pericolosi. Ne ho già parlato in un episodio di Diario di Viaggio on the road, ma è anche un argomento che approfondiamo oggi in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. La totale inutilità di alcuni lifehacks estremamente diffusi era abbastanza chiara, che tra le altre cose ha fatto anche la fortuna del buon Kaby Lame, e se dovessimo discutere di pericolosità abbiamo già visto fenomeni come le chiare istruzioni per costruirsi una pistola per colla a caldo. Oggi, invece, vorrei soffermarmi per un momento sul fenomeno in generale. Stiamo parlando di compilation, di brevi clip che mostrano azioni semplici e veloci, che portano a creare qualcosa di, magari, simpatico, divertente o che in qualche modo appare funzionale – la classica soluzione a un problema che non sapevi di avere. Talmente funzionale che diversi management estrapolano decine di canali su diverse piattaforme social, mettendo assieme tendenzialmente gli stessi attori e gli stessi creator e gli stessi contenuti, che a rotazione si passano l'un l'altro. Quando non ci sono quei creator che cercano di inseguire l'algoritmo in determinate lingue, e allora abbiamo fenomeni particolari come The Survival Spanish, che è un creator spagnolo che ha questo canale in cui crea questa serie di contenuti, ma che ha anche un altro canale in lingua italiana, MrProfessore, in cui ci presenta gli stessi contenuti, con un watermark differente così, magari cambiando leggermente il watermark cambia il video in qualche modo e l'algoritmo non vede che è lo stesso video, magari con un montaggio leggermente differente e in questo modo ha anche questo canale in lingua italiana. Ma approfondiremo questo discorso di creator che utilizzano differenti canali in differenti lingue in un altro episodio. Il problema è che questa tipologia di canale macina milioni di visualizzazioni, soprattutto tra un pubblico di bambini e ragazzini, che potrebbero essere poi spinti a tentare di realizzare alcuni di questi esperimenti o lifehack. E sebbene alcuni, oltre che inutili, sono tendenzialmente innocui come un elastico tra la punta del cacciavite e la testa della vite consumata, altri per esempio includono la rete elettrica di casa, modificare accendini o petardi, addirittura costruire balestre o baliste. Ed è qui che io mi fermo, perché non so come dovrebbero essere considerati questi contenuti. Non c'è neanche una soluzione unica per tutti, visto che questa tipologia di contenuti intasa i principali social media. Per cui sì, sarebbe facile dire «eh, l'importante che non finiscano, non so, su YouTube Kids e che non compaiano in modalità con restrizioni». Ok? E però poi li troviamo anche su Instagram e IGTV, li troviamo su Facebook, li troviamo su TikTok. Ed altronde, il grande successo, i grandissimi numeri macinati e la grande capacità di realizzare centinaia di questi contenuti, con pochissimo lavoro tra quello che è girare e quello che è editare, rendono questa un'attività ESTREMAMENTE redditizia. Per cui chiedo a voi, che cosa ne pensate? Voi seguite qualcuno di questi canali? Avete mai visto qualcuno di questi video? Avete provato qualcuno di questi lifehacks? Si è dimostrata una soluzione eccellente, oppure un inutile spreco di tempo? Non lo so, parliamone. Bene, io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro della cultura, del folklore o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!